buongiorno incartiamo un panettone formando un sacchetto dunque tagliamo una striscia tenendo conto della circonferenza del nostro panettone ricreiamo sempre il sacchetto partendo arrotolando il panettone chiudendo sotto una volta che tiriamo sul panettone e lo chiudiamo alla base mettiamo tutto il restante della carta all'interno del panettone stesso formeremo una bocca sopra che non si vedrà il contrario della carta resterà in questo caso ho scelto una carta con le scritte merry christmas resterà tutto omogeneo una volta legato ben stretto inseriamo il ciondolo tenendoli con il pollice e l'indice mischiamo un po di fantasie io qui ho usato l'oro rosso bordato animato e del nastro a righe con anche un altro tipo di nastro sempre con un rigato con un fiocco leggo ben stretto tutto e apro bene il fiocco le discese le lascio belle lunghe che mi coprono una parte di panettone perfetto mi spiace grazie a tutti